buongiorno benvenuti alla resegna stampa di fano tv questa è occhio ai giornali tra poco vedremo il corriere adriatico il resto del carlino con le pagine dedicate alla provincia di pesaro e urbino lo vedremo le vedremo tra un istante con i titoli naturalmente adesso però andiamo a vedere il santo del giorno il santo di oggi il santo di oggi è san leone magno papa il sole sotto alle 6 e 55 e tramonterà alle 16 e 48 allora il tempo oggi lo vediamo schematicamente semplicemente così con la grafica che ci riporta i simboli del tempo da qui al 15 di novembre ma noi ci limitiamo forse meglio ai prossimi due o tre giorni quindi per oggi avremo un cielo sereno o poco nuvoloso domani il tempo peggiorerà a partire dal pomeriggio con temporali anche forti nel corso della serata poi sabato vedete il tempo migliora di nuovo questo un po per tutta la provincia di pesaro urbino andiamo a vedere adesso i giornali cominciamo dal resto del carlino la tragedia del nonno ecco il titolo e la fotografia drammatica di questo incidente che c'è stato ieri in viale italia a fano il racconto di ciò che è accaduto un anziano che era andato un signore che era andato a prendere quasi come faceva tutti i giorni insomma la nipotina a scuola il piede secondo il resto del carlino sarebbe finito inavvertitamente nei raggi della bicicletta nella caduta l'anziano ha battuto la testa e poi è morto questa è la fotonotizia che ritroveremo anzi lo facciamo subito andiamo a vederla subito la pagina di fano ecco qua altre immagini drammatiche di questa tragedia che è successa intorno alle 13 come dicevo in viale italia in bici con la nipote cade e muore il nonno stava riportando la piccola casa dopo la scuola è successo intorno alle 13 la nipotina di otto anni sulla canna per causa ancora il vaglio degli inquirenti è caduto e abbattuto la testa è morto così costantino nigra da tutti con conosciuto come tino 75 anni appartenente alla nota famiglia proprietaria di terreni della macelleria di via cavur e purtroppo questa è questo è racconto la storia di quello che è accaduto nella giornata di ieri un altro lutto invece un lutto che ha colpito la famiglia di un collega addio a anna maria vinta da un male feroce si è spenta la moglie dello storico corrispondente carlo moscelli si è spenta al termine di una lunga malattia anna maria giovagnoli moscelli moglie dello storico corrispondente del resto del carlino di fano carlo e madre del giornalista corrado editore di fan informa oltre che di alessandra e paolo naturalmente anche da parte da parte mia di tutta la redazione di tutto lo staff tutti i collaboratori di fan tv a moscelli le nostre più sentite condoglianze andiamo avanti con il giornale operazione gimarra siamo sempre sul resto del carlino della pagina di fano operazione gimarra l'accordo si intravede fondo cives nuova banca marca si tratta riviste il prezzo rivisto il prezzo dell'area del carmine housing housing sociale centro natatorio con tre piscine recupero della struttura incompiuta appunto a gimarra vedete la incompiuta della lottizzazione del carmine il fondo cives vorrebbe farne 80 appartamenti a basso prezzo il carnevale lancia l'acuto 20 artisti comporranno la colonna sonora della festa più importante della città 20 artisti locali tutti d'accordo per realizzare queste canzoni che saranno faranno da colonna sonora sono 20 brani tra originali e cover riadattate che parleranno dei colori della storia e del cuore della manifestazione poi sotto fuga di gas alla liscia la puzza di metano arriva fino al campus è successo in viale kennedy transenata la zona bloccato l'incrocio l'incrocio con viale buozzi morto il pensionato scomparso giuseppe galeotti di 77 anni si era allontanato domenica urbania è stato trovato nel fiume metauro vicino al mulino della ricavata dunque è finita in maniera tragica la vicenda di galeotti questo uomo il cui cadavere del è stato trovato in prossimità della località mulino della ricavata poco prima delle 17 di ieri pomeriggio ancora dal carlino ospedale sanità ecco qua la pagina di pesero primo piano ospedale forse sei ore delude tutti ma nessuno chiede l'assemblea bis il presidente dell'area vasta sul chi vive e i sindaci giocano in difesa un po' un dialogo tra sordi scrive il giornale il governatore ha ignorato la delibera del consiglio pesarese che indicava invece il sito di muraglia vediamo la prima pagina invece adesso del corriere adriatico la vediamo subito maxi frode vertical bio tutti i nomi delle persone coinvolte oggi l'inchiesta arriva davanti alla gup sotto accusa 33 imputati e 6 aziende è una frode tra le più insidiose perché riguarda i prodotti agricoli biologici e perciò intacca la fiducia verso un settore in espansione che promuove la salvaguardia dell'ambiente insieme alla tutela della salute oggi davanti al gup del tribunale di pesero arriva la max inchiesta vertical bio ecco chi sono i 33 imputati e le 6 aziende coinvolte tutto dentro in due pagine del corriere del corriere adriatico ecco come israele è stato e scusate ismaele è stato ammazzato accoltellato alla gola l'omicida era dietro il delitto lulli depone in aula il medico legale l'udienza mette dei punti fermi sulla ricostruzione i colpi inferti hanno reciso carotide faringe trachea del 17 nello vedete in questa immagine ismaele lulli mentre sotto igli meta eccolo qua e mario mema i colpi inferti sono stati fatali per questo 17enne e ha spiegato il medico legale anche tutte le fasi terribili della morte di questo ragazzino di sant'angelo in val ospedale unico a fosso sei ore vincoli e tutele la soprintendenza lo rammenta alla regione nuovo intervento con rilievi tecnici nella lettera si ricordano tutti i paletti ambientali ed edificatori dell'area ma a quanto pare la regione è decisa ad andare avanti e quindi l'out out di Ceriscioli a Pesaro e Fano rischia di mandare in frantumi le maggioranze a Pesaro sempre l'ex amga a gennaio la bonifica della falda l'assessore Foronchi rassicura sull'area non si costruirà più ancora faremo rifaremo da capo le scuole e gli ospedali cambio di strategia da parte della regione nelle zone terremotate Ceriscioli vuole valutare i danni ad Amandole Fabriano diverse ipotesi anche per i 65 edifici scolastici inagibili la pagina di Fano muore davanti alla nipotina era andato a prenderla in bicicletta a scuola al Poderino nel viaggio di ritorno alla caduta fatale Costantino Nigra 75 anni ha sbattuto violentemente la testa pur di proteggere la bambina l'incidente è avvenuto alle 13 in Via L'Italia nulla è servita la rianimazione sul posto anche qui la notizia del tubo rotto e della puzza di gas che è arrivata fino al campus scolastico paura per i residenti chiuso per ora il Viale Kennedy nell'area attiva alla liscia la causa un impianto ormai vecchio vetusto la pagina di Pesaro invece del Corriere ecco l'immagine del Natale che sta arrivando con l'albero vitruviano innalzato in Piazza del Popolo la bete che diverrà il simbolo delle prossime festività delle noci l'assessore dice armonioso nelle forme e sobrio una folla di curiosi si è fermata ad ammirare e a osservare gli operai che stavano appunto montando questo sistemando questo albero viene dalle cinque torri dei condomini l'avevano segnalato come pericolante e allora le altre pagine sempre dal torniamo sulle pagine delle croniche di Fano scuola di volo disdetti tutti i contratti c'è stata una commissione di garanzie e controllo una raccomandata shock presentata dal presidente di Fano Fortune verifica i controlli sul sistema gestionale dell'area portuale Belli dice trovare palesi trovate palesi violazioni un naso rosso contro la paura invece i clown dottori della Croce Rossa Fanese sono impegnati nei luoghi del terremoto la terapia così proviamo a regalare sorrisi a piccoli adulti e naturalmente anche ai soccorritori Val Cesano terre roveresche il countdown il controlla rovescia attesa e impegno lunghi 13 anni sale il gradimento per il comune unico sostenuto dal piano strategico 2030 e ancora sulla pagina della Vada del Cesano pini decapitati per realizzare la pista shock dei residenti di San Sebastiano il comune di Mondolfo parla di un progetto nato con l'altra giunta piazzeremo comunque dicono nuovi alberi infine la pagina di Senigallia con il titolo dateci i canti di Natale a scuola il presidente della consulta degli stranieri si schiera con i genitori sul caso dei concerti negati Mohamed Malì marocchino e musulmano magari si possono integrare con altri e non vietarli insomma questa è la rassegna stampa di oggi grazie per averci seguito vi auguro una buona giornata ci vediamo questa sera come sempre alle 20.30 con occhio alla notizia poi seguirà in diretta Missione Salute ci saranno i primari ci sarà il primario ci saranno i medici del reparto di pneumologia dell'ospedale dell'azienda Marche Nord ai quali potrete rivolgere le vostre domande è tutto vi auguro buona giornata a domani a domani